Scuola, famiglia, oratorio, territorio. Qual è il bilancio che il cinema fa dell'educazione ai giorni nostri? Il cinema ha raccontato spesso le relazioni educative, appunto sostando a volte nella famiglia, a volte nella scuola, più che altro la scuola come scenario, come sfondo, e molto spesso sulla strada, sul territorio, nei quartieri, nelle comunità di recupero dei giovani. Certo, il cinema in qualche modo restituisce non solo uno sguardo su queste realtà, ma permette anche di metterle a tema e di metterle a tema a partire da una funzione regolativa che è il cinema, cioè il cinema rappresenta e insieme regola la modalità di pensiero sulle cose rappresentate. In questo senso il cinema davvero è uno sguardo nuovo, ci permette di vedere le cose così come mai avremmo potuto vederle nel Novecento, per questo che qualcuno lo chiama l'occhio del Novecento. E a sua volta il cinema è capace di educare? Il cinema educa nel senso che ristabilisce un primato dello sguardo interpellando una intelligenza e una responsabilità della visione, che invece ad esempio la televisione non fa e non può fare perché schematizza, semplifica, eccetera. E l'altro motivo per il quale il cinema può educare è perché impara a fare conoscenza con la narrazione. E noi sappiamo che raccontandoci diciamo le identità, costruiamo le identità, tant'è che quando noi incontriamo una persona che ci interessa diciamo raccontami qualche cosa di te, cioè fai emergere la verità di te stesso, cioè la tua identità. Se dovessi consigliare un film a dei ragazzi, che cosa consiglieresti come film che sappia proprio raccontare qualcosa e far emergere anche qualcosa di loro? Ma certamente per i ragazzi suggerirei Shalla, mentre per le famiglie di questi ragazzi suggerirei un film straordinario che io ho scelto anche come copertina del mio libro, Premio Oscar del 2010 di Susan Beer in un mondo migliore.